ciao dai 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 tesorino buca mi buca ci buca al can ma sono pieno non importa guarda ti fa bene ti sostiene ti sostiene sostiene è proprio simpatica dai uno per me facciamo una cena ora di queste sere in giro però ma si etnica magari andiamo in questi ristorantini diciamo si stai zitto mangiate uno per me uno per roma che ci dà la linea uno per il cameraman che ci vuole tanto bene mi fai piacere quando è uno per bianfranco gianco